Abitare e produrre nella villa romana del Sale a Lio Piccolo. Si è conclusa con successo la campagna di scavo archeologico nella frazione di Cavallino, progetto vincente di valorizzazione del territorio e ricerca scientifica nella laguna. Uno scavo archeologico condiviso con la comunità e quindi l'identità di Cavallino Treporti, che risiede anche in questi aspetti, in questa nostra storia che risale a due millenni fa, si ripercuote oggi e diventa un valore aggiunto, un importante valore aggiunto, sia dal punto di vista comunitario, quindi della comunità di Cavallino Treporti, ma anche dal punto di vista turistico. Il cantiere archeologico è stato trasformato in un palcoscenico, dove comunità, turisti e archeologi si sono confrontati intorno ai temi, quali la ricostruzione del paesaggio antico, la sostenibilità dell'uso turistico di questi fragili spazi. Archeologia e cultura devono essere leve turistiche che vanno a completare l'offerta di un territorio. La moderazione dei numeri e la esclusività, unite alla gastronomia, unite allo sport, alla palestra aria aperta, fanno una destinazione. La nostra è una destinazione particolare che deve puntare sulla qualità, perché i flussi non devono gestire le località, ma dobbiamo gestire i flussi. Lo scavo ha permesso di vedere come l'intera villa fosse stata progettata rispondendo a un unico grande progetto di sfruttamento delle risorse lagunari, a partire dal I secolo d.C., e si è scoperto un elemento unico nel panorama Veneto. L'avere individuato queste stanze quadrate, cubicola, il termine esatto, che sono le stanze dei lavoratori. Sono stanze di riposo, quindi camere da letto, ma anche le camere dove venivano messi di servizio, quindi i propri utensili. Chi sono questi servitori, questi lavoratori? Sono gli schiavi che permettevano la produzione del sale che metteva il motore a questa villa.